Buonasera a tutti, ringrazio la Società degli Uto per questo invito, sono Domenico Cerasani e oggi vi parlerò di alcuni aspetti che sono dietro un piccolo lavoro che ha portato ad una registrazione discografica pubblicata lo scorso anno. La registrazione è quella pubblicata dall'etichetta Nova Antiqua e il disco è La Bella Franceschina, registrato da me insieme a Massimo Lonardi e a Renata Fusco. Perché voglio parlarvi di questo argomento? Come vedete il titolo è L'ispirazione popolare nella musica del Cinquecento, proposte interpretative a due liuti e liuto e voce. Effettivamente si tratta di quello che poi abbiamo fatto in questa registrazione, quindi siamo andati, partendo da una fonte che è di musica strumentale, siamo andati a ricercare un po' quali sono i temi e alcuni aspetti della musica popolare nel Cinquecento che ci sembravano calzanti per creare un programma. In questo senso io mi sono occupato della parte più storico-musicologica, mentre Massimo Lonardi ha fatto il lavoro di trascrizione e di intavolatura dei brani strumentali. Mi sembrava adatto proporre questo argomento anche perché nelle ultime cinque edizioni della rivista Il Liuto, pubblicata dalla Società del Liuto e che appunto tutti i soci hanno ricevuto, sono state pubblicate dieci danze che sono appunto quelle, diciamo in gran parte di quelle che siamo andati anche noi a registrare, proprio nell'intavolatura realizzata da Massimo Lonardi, quindi mi sembrava un argomento anche interessante per i soci e gli amici e gli appassionati della Società del Liuto. Vado quindi ad iniziare e lo spunto iniziale, la partenza per questo progetto che per me si è rivelato comunque avvincente, è stato un manoscritto conservato ora al British Library che viene catalogato come Royal Appendix, 59-62 è il numero di catalogo. Di cosa si tratta? Si tratta di quattro libri parte, quindi appunto da 59 al 62 sono catalogati dal soprano fino al basso, si tratta di quattro libri parte che contengono molte danze, oltre 40 danze che possiamo a posteriori collocare in un arco temporale più o meno appunto con lo scritto tra il 1520 e il 1560. Diciamo che la data del 1560 è un po' più sicura, non abbiamo riferimenti nel manoscritto stesso, ma sappiamo che il proprietario di questo manoscritto fu Henry Fitzalan appunto dodicesimo conte di Harvard. In questo senso sappiamo che nel 1560 Henry Fitzalan tornò in Inghilterra e quindi dopo un lungo soggiorno in Italia e quindi portò con sé anche questo manoscritto che raccoglie brani strumentali di ambito italiano, soprattutto appunto in una raccolta di danze. All'interno di questi libri parte si trovano non soltanto brani strumentali, ma sono sempre divisi, quindi nella prima parte ci sono dei brani strumentali a quattro parti e nella seconda parte di ogni manoscritto ci sono dei brani vocali a tre. In questo senso forse è interessante notare come all'interno dell'ultimo fascicolo si trovi un titolo che probabilmente rimanda al contenuto generale di tutti i libri parte e quindi troviamo scritto Galliards e Neapolitan Songs. Sembra appunto di poter attribuire il titolo di Galliards alla parte strumentale, quindi ai brani strumentali e Neapolitan Songs in questo caso direi proprio che sono i brani vocali a tre voci. Appunto come vi ho già accennato, dei brani strumentali a quattro voci ne sono state proposte da Massimo Lonardi delle intavolature per due liuti che noi siamo andati a registrare. In questo senso, appunto come dicevo, essendomi occupato un po' della parte storica, è stato molto interessante vedere come l'ispirazione di questi brani sia molto spesso di matrice popolare. Qui vi ho riportato appunto per farvelo conoscere un po' più da vicino il ritratto di Harry Fitzalan, proprietario di questi manoscritti, primo proprietario ovviamente, e qui vi ho messo una serie dei brani intavolati che siamo andati a registrare. Già ad un primo sguardo possiamo vedere come ci sono alcune danze molto molto famose, ad esempio la gamba o la traditora, fanno parte un po' del repertorio cinquecentesco a tutto tondo e si ritrovano in molti ambiti, anche in molte intavolature liutistiche. Altri brani sono un po' meno conosciuti, ma ci sono sembrati appunto adatti anche per questa realizzazione a due liuti come la monina o il todesco, ce ne sono alcune versioni, ma questa ci è sembrata particolarmente aggraziata. Qual è stato il lavoro? Il lavoro è stato inizialmente quello da parte nostra di andare a cercare, visto che per il disco avevamo a disposizione anche la voce di Renata Cusco, di andare a cercare dei corrispettivi vocali che potessero in qualche modo riferirsi alle danze per due liuti. E così ne abbiamo trovati un po' e ci siamo divertiti a fare la nostra realizzazione quindi a due liuti e voce. Cercando tre brani vocali vi porto ora nella città da cui vi parlo, tutti in questa foto riconosceranno la città di Bologna e vi porto a Bologna perché una delle fonti più interessanti per quanto riguarda la musica vocale di ispirazione popolare nel 500 sono sicuramente le villotte del fiore di Filippo Arsaiolo. Qui vedete un frontespizio del primo libro delle villotte alla Padoana e come vedete insomma ci sono anche altri brani che vengono definite napolitane e qui vi ho riportato del terzo libro di villotte perché le villotte di Arsaiolo ebbero anche una vicenda editoriale così un po' intricata nel senso che del primo libro che è quello più universalmente conosciuto dove ci sono dei brani notissimi come Sentomi la formicola o anche di questo primo libro ne uscirono tre edizioni ma Arsaiolo pubblicò tre libri con brani diversi quindi primo libro tre edizioni poi un secondo libro e poi un terzo libro. Di questo terzo libro vi ho riportato qui la dedicatoria, vedete l'ambito bolognese sia dalla dedica al conte isolani e sia nella firma Filippo Arsaiolo bolognese ma in questo terzo libro è per noi importante perché ritroviamo, vi ho sottolineato qui, il palesarsi della figura di Arsaiolo come autore di queste villotte, infatti vado a leggere, ancorch'io gli anni passati senza pubblicare chi mi sia abbia posto in luce il primo e il secondo del fiorto e le villotte, adesso non di meno in dar fuori il terzo ho voluto manifestare, sì per ubbidire ed essere di buon esempio agli altri musici, di non sotterrare in tutto il talento che Dio ne dà e così nello stile dell'epoca, ma sappiamo è importante per noi, se mai ce ne fosse bisogno, che Arsaiolo quindi fu l'autore anche del primo e secondo libro e come vi dicevo il primo è sicuramente quello più famoso ed è anche quello da cui abbiamo tratto la maggior parte dei nostri brani, vedete qui vi ho brevemente riassunto le vicende editoriali, ci sono tre volumi diversi di villotte, ma il libro primo soltanto ebbe, ebbe in pochi anni tre ristampe, la prima del 557 stampata a Venezia da Gardani, sempre a Venezia 560 e 64 da Scotto, siamo partiti dai corrispettivi vocali delle danze strumentali a due minuti. Quali sono i brani che hanno un riferimento diretto? Allora il primo è il brano Ti parti Cormio Caro, piuttosto conosciuto, che si rifà quasi interamente, soprattutto nel profilo melodico iniziale, al ballo chiamato La Torza. Un'altra danza ripresa da Zaiolo è quella della gamba inserita nel suo brano Al di dolce ben mio e Gentil Madonna che nel suo titolo sia strumentale che vocale mantiene questa denominazione, che è appunto Gentil Madonna nelle due versioni. In questo senso volevo soffermarmi un attimo solo sui modi della citazione e infatti se appunto come accennavo nel Ti parti Cormio Caro la torza viene ripresa melodicamente all'inizio, se in Gentil Madonna si tratta praticamente nella sua interezza dello stesso brano nella versione vocale, nella versione strumentale. Più interessante sembra il caso di Al di dolce ben mio dove la citazione della gamba viene per così dire incastonata all'interno del brano e ne rappresenta quasi una specie di ideale ritornello che si trova all'interno del brano e in quel caso viene chiamata gagliarda. Appunto c'è un invito a fare questa gagliarda e dopo l'invito si scatena questa danza della gagliarda che è appunto il tema della gamba. C'è un altro brano che ha un corrispettivo vocale diretto che abbiamo inserito nel nostro lavoro che è Chi passa, che troviamo in alzaiolo, Chi passa per sta strada e di cui ne conosciamo una celebre versione strumentale, ma in questo caso ha una paternità certa di Gorzanis, però diciamo sempre per seguire questo filone del brano vocale e strumentale sulla stessa danza abbiamo inserito anche questo brano. Lavorando su alzaiolo mi sono divertito a cercare un po' cos'era la villotta delle origini. Con alzaiolo non siamo più evidentemente alle origini della villotta perché ci troviamo di fronte ad una forma già cristallizzata che mantiene alcuni aspetti molto specifici, ma per capire cos'era inizialmente la villotta bisogna andare in ambito teatrale. Effettivamente come ho scritto c'è un'oscillazione soprattutto nel primo trentennio del 500 per quanto riguarda i brani musicali inseriti in quello che viene definito il genere villanesco, il genere villanesco non soltanto in ambito musicale, ma in senso più lato anche e soprattutto forse teatrale. Quindi se a partire dagli anni trenta del 500 il genere che avrà più successo è quello delle villanelle alla napoletana e tutti sappiamo il successo che avrà perché i celebri compositori poi si dedicheranno anche a questo genere. Per le villotte il caso è un po' all'inizio meno chiaro, ma sembra abbastanza sicuro che possiamo riferirci ad un ambito veneto. La villanella, infatti come abbiamo visto anche nel frontespizio da Arzaiolo, si rifà all'ambito napoletano e molto spesso erano anche inizialmente chiamate napoletane e in questo caso c'è un ambito veneto e quest'ambito veneto si caratterizza i brani soprattutto nella parte testuale. Effettivamente nel genere villanesco ci sono anche dei riferimenti musicali che ogni sottogruppo di questo genere poi ha, ma l'ambito testuale il testo è molto importante e il riferimento anche dialettale, oggi diciamo dialettale ma insomma linguistico per meglio dire al Veneto sicuramente si ritrova nelle villotte. E in questo ambito veneto per capire un po' al contesto ho trovato due citazioni da Marino Sanudo, politico veneziano vissuto tra il 1466 e il 1536 che nei suoi diari, che sono molto interessanti perché coprono un arco temporale molto ampio di circa 37 anni, scrive dei diari fino al 1533 Sanudo quando poi morì pieno di debiti in circostanze non meglio chiarite e in questi diari però troviamo davvero la vita politica e la vita oggi diremmo di costume società di Venezia nei primi 30 anni del 500 e in questo senso sicuramente anche l'ambito teatrale aveva una certa importanza e Sanudo si trova spesso a spettacoli teatrali e li racconta, li racconta molte volte in maniera molto breve dando qualche dettaglio e soprattutto è interessante l'atteggiamento di Sanudo quando, come vedremo anche in queste due citazioni, diciamo a volte si mette in una posizione così di semplice spettatore o a volte anche la posizione conviviale di una persona che ha partecipato ad una festa di gentiluomini e questo succede quando non sono presenti le mogli, ma molto spesso sono presenti le prostitute, mentre quando sono presenti famiglie e mogli l'ambito diventa invece moralizzatore perché appunto a Venezia sappiamo che c'era in questo senso un'etichetta anche piuttosto rigida. E per tornare alle nostre villotte leggiamo come in rappresentazioni teatrali in questo caso ci riferiamo al celebre Ruzzante Padovana. Ruzzante Padovana e altri vestiti alla villanesca che saltavano e ballavano benissimo e sei vestiti da villani putati che cantavano villotte e cada una avea cose rusticale varie man come zappe e padili, pale, vanghe e rastelli, item trombe, pifari, pive e trombe squarzate. Questa è una citazione dai diari del 1524 e vediamo come appunto le villotte vengono inserite in una commedia teatrale e se ne dà anche una modalità esecutiva con appunto strumenti per lo più affiato in questo caso. La seconda citazione è interessante e si rifà a quell'atteggiamento moralizzatore di Sanudo, poi Ruzzante e Menato Padoani da Vilanca in una commedia villanesca e tutta la sciva e parole molto sporche adeo da tutti i fobbi a semata e se li dava stridò. Tutta la conclusione era di Ficariet, Fadeco, Isomariti. Poi la citazione è un po' più lunga, dovete sapere che Ruzzante e Menato furono addirittura cacciati via da questa festa perché la commedia villanesca si era spinta un po' oltre. Con Azzaiolo non siamo in quest'ambito, ma questo è l'ambito di nascita delle villotte, probabilmente il contesto iniziale, quella di Azzaiolo è una villotta sicuramente molto più pudica, molto purificata in questo senso, ma che non viene meno al piccolo gioco sullo scenità, appunto all'indugiare a volte sull'ambito linguistico veneto e quindi diciamo c'è un collegamento anche con questo mondo che comunque si riferisce a oltre 25 anni prima. Allora, come vedete dal testo della bella Franceschina, il tutto è giocato su un riferimento letterario non propriamente alto e si crea addirittura un termine, un neologismo che è quello della bustachina che nel testo serve per creare tutto il gioco nonsense che sta alla base del testo stesso, ma bustachina diventa addirittura, poi si ritroverà ancora nel 500, nei primi del 600 come sinonimo di termine letterario per il genere, per alcuni componimenti di genere leggero. Appunto avete visto qui il testo e passiamo a parlare della girometta. La girometta che è un altro tema molto molto conosciuto e molto popolare a partire dalla fine del 500, è un tema che a stampa si trova dalla fine del 500, quindi possiamo dire che è un tema più seicentesco sia come testo che come melodia e si ritroverà a stampa fino ai primi decenni del 700, è un tema come sappiamo tutti di grandissima popolarità per tutto il XVII secolo e diventa parte integrante del genere della battaglia, nelle battaglie a un certo punto c'è sempre la girometta che arriva, ma come si è visto da ricerche anche nel nord Italia, dove il termine girometta e le melodie legate alla girometta siano, scusate, siano piuttosto vive ancora, appunto nel nord Italia si ritrova la girometta ancora nel ventesimo secolo, perché vi ho riportato in diversi linguaggi, perché come avevo accennato il secondo soprano di questo madrigale, quindi nella parte scritta da Marenzio, è il personaggio che canta, è proprio la girometta e canta con la propria melodia, con il proprio tema. L'ultima cosa che vi ho riportato è quello che nel duo VII di Gastoldi la girometta viene accostata alla bella Franceschina, questa è una cosa che si ritrova anche soprattutto in ambito letterario, in altri componimenti e questi due personaggi appunto pare abbiano condiviso parte della propria storia. Per indagare un po' più da vicino la girometta sono andato a trovare una citazione da Giulio Cesare Croce, che quando si parla dell'ispirazione popolare a cavallo tra 5 e 600 è uno degli autori più importanti e in questo, sin dal titolo satirico componimento, questo tramutamento sopra un amante affamato e una cuciniera del 1610, del 1610, vediamo come Giulio Cesare Croce vada a citare, questa la san perinfino alle putte, ma è bella da cantare, che la piace alle donne belle e brutte che si può maritare, una ne può trovare ma questa va in sull'arte, chi t'ha fatto le belle scarpe che ti stanzi ben, che ti stanzi ben, girometta. E quindi appunto Croce cita subito la misura della popolarità di questo tema, ma il tema popolare viene addirittura utilizzato alla fine del 500 in un trattato di ambito letterario per una disquisizione sull'enne a sillabo. Perché sull'enne a sillabo? Perché Ciro Spontone, umanista bolognese, nel suo scritto Il Bottrigaro, che fin dal titolo è dedicato all'umanista e musicista Ercoli Bottrigari, che tutti noi conosciamo anche per il suo famoso trattato Il Desiderio, appunto in questo scritto Il Bottrigaro nel 1589, per parlare dell'enne a sillabo Ciro Spontone, personaggio del dialogo stesso, citando un enna sillabo pregiato, cita appunto quello della girometta. Questo suscita un po' lo scandalo dei suoi interlocutori, perché appunto dicono ma come alla lingua di Dante tu vai a contrapporre un componimento così basso, ma evidentemente Ciro Spontone era legato a questo componimento e ne dà anche una viva rappresentazione di quello che poteva essere l'esecuzione della girometta, quando dice da fanciulli quando sull'auto e sulla viola e quando sull'articordo, or con le pive a ballo e finalmente ridotta ragione di musica, con tromboni, cornette e cornamuse da suonatori eccellentissimi alla ringhiera di Palazzo Maggiore e con soddisfazione grandissima del popolo ascoltante, suonata in alcuni tempi festevoli la canzone, chi t'ha fatto quelle scarpette che ti stanzi ben girometta. Appunto vediamo come Spontone ce ne dia una rappresentazione un po' idealizzata di questa girometta che può essere adatta sia all'ambiente così di musica familiare, sul diuto, sulla viola o appunto anche alle festività municipali, siamo qui a Bologna, il Palazzo Maggiore è quello, è il Palazzo d'Accurzio da cui a mezzogiorno il conciasto palatino sul balcone che dà su Piazza Maggiore appunto suonava ed evidentemente nel repertorio sarà anche la girometta. Qui vi ho riportato Gastoldi perché di Gastoldi nel nostro lavoro abbiamo preso alcuni brani tratti da un'importante raccolta che è il primo libro della musica a due voci pubblicato a Milano nel 1598, è una raccolta diremmo oggi miscellanea dove la maggior parte dei componimenti sono di Gastoldi ma ce ne sono altri anche anonimi o di altri autori, si tratta di Bicigna trattati in contrapunto piuttosto stretto e in questo senso abbiamo preso come già citato il duo settimo, vengono chiamati duo i brani che è interamente basato sui temi della bella Franceschina e della girometta. Questo ci ha sembrato interessante proprio perché per far vedere come l'ispirazione di temi e melodie popolari possa essere alla base anche di componimenti di fattura musicale piuttosto pregiata diciamo così e in questo duo la bella Franceschina viene proposta e trattata contrapuntisticamente due voci e poi il tema della girometta subisce lo stesso trattamento, anche questo è un brano che abbiamo intavolato a due liuti perché si prestava molto bene e un altro brano che abbiamo preso da questa raccolta è il duo ventiquattresimo basato sul tema della tedesca, questo aveva anche un riferimento diretto con i brani strumentali che troviamo nel manoscritto inglese perché come già accennato lì troviamo il todesco e il todesco sia come brano ma anche come figura, soprattutto come figura nell'Italia cinquecentesca è molto importante e lo conosciamo, sappiamo delle orde di soldati tedeschi che scesero in Italia nel cinquecento e quindi il carattere diciamo del brano è quello per lo più militaresco riconoscibile soprattutto nell'incipit con il suo piede d'attilico ma la figura del tedesco è molto importante anche nel teatro e nel teatro musicale diciamo oggi per così dire un po' antelitteram perché ad esempio tornando di nuovo al nostro madrigale in diversi linguaggi di Marenzio Vecchi anche lì troviamo uno dei personaggi è proprio un tedesco che canta come si facevano cantare i tedeschi parodiandoli all'epoca e quindi canta con quest'italiano insomma un po' ostentato e con un forte accento tedesco e soprattutto diciamo anche gli argomenti, i temi del tedesco sono principalmente due, uno sono le oscenità e uno è l'alcol, il tedesco è nella commedia dell'arte ma anche nel madrigale di vecchi e di banchieri anche c'è un noto tedesco nella barca di Venezia per Padova è sempre ubriaco il tedesco e viene proprio quasi sempre anche nella sua raffigurazione teatrale proposto con il fiasco in mano. Ultimo brano che abbiamo intavolato da questa raccolta due liuti è il duo undicesimo che si rifà anche in questo caso ad un motivo popolare che è quello della spagnoletta, in questo caso non c'è un corrispettivo diretto con i brani del manoscritto inglese ma abbiamo proposto un'intavolatura tratta da Fabrizio Caroso della sua spagnoletta Nova. Per quanto riguarda i brani strumentali proposti a due liuti sappiamo che nel manoscritto si riconoscono almeno due mani e sono estensori che elaborano i temi a livello contrapuntissimo in maniera un po' oscillante, c'è un estensore un po' più puntuale e altre mani si riconoscono che in realtà scrivono per così dire un po' peggio. L'intavolatura due liuti segue il criterio molto spesso dell'incrocio tra i due liuti, delle voci incrociate tra i due liuti in cui un liuto intavola il soprano e il tenore mentre l'altro intavola il contralto e il basso. In altri casi invece e lo andremo a vedere c'è un liuto a cui è affidata la voce superiore mentre la restante intavolatura l'altro liuto intavola le voci inferiori quindi il contratto, il tenore e il basso. Come vedete tra parentesi ho riportato il basso perché il basso viene molto spesso raddoppiato dai due liuti e su questo si può speculare forse per la debolezza del suono delle corde in budello sui bassi o soltanto perché sta bene così perché suona bene e lo sappiamo anche dagli esempi dell'epoca, qui vi ho ricordato forse il più celebre da John Dowland e in questo brano a due liuti quindi come vedete il basso è sempre raddoppiato in entrambi gli strumenti, c'è qualche spasamento ritmico ma insomma non cambia la sostanza del raddoppio del basso. Nelle intavolature a due liuti il tema viene proposto sempre dai due strumenti e anche le diminuzioni. Il criterio è quello della varietà perché possono esserci delle piccole variazioni nel tema proposto o anche delle variazioni in quello che diciamo così nel liuto che accompagna questo tema e per quanto riguarda invece le diminuzioni sono molto spesso effettuate sulla voce superiore ma vengono anche legate a delle voci interne a volte anche nel basso e raramente però le diminuzioni vengono realizzate alla bastarda quindi diciamo seguono per lo più l'andamento della voce che si diminuisce. Qui vi ho riportato due esempi, uno dalla celebre traditora dove qui sottolineato il liuto che intavola le parti inferiori, in questo caso si tratta appunto di uno di quegli esempi in cui le voci sono divise con voce superiore un liuto e le tre voci inferiori l'altro e vedete appunto le tre voci in questo caso non sono sempre tre ma insomma è a volte un riassunto delle tre voci mentre quando il tema passa all'altro liuto il liuto che intavola le voci inferiori quindi in questo caso quello che vedete nella parte superiore quello sottolineato vedete che non fa esattamente la stessa cosa e quindi c'è un'elaborazione anche di queste voci piuttosto estesa. Altro esempio è quello della monina in questo caso per quanto riguarda le diminuzioni e nelle diminuzioni qui è il primo liuto che fa la sua diminuzione, la diminuzione inizia nello stesso identico modo negliuto 2 ma poi prende altre strade per così dire e in questo caso serve anche ad introdurre la riproposizione del tema quindi le diminuzioni anche sono fatte in maniera differente non sempre ma il criterio della varietà diciamo è quasi sempre rispettato. Per quanto riguarda i riferimenti alla musica dell'epoca confrontandomi con Massimo Lunardi diciamo che i suoi esempi sono stati soprattutto Piero Paolo Borrono, Giovanni Paolo Paladino e Ioann Maria da Crema per quanto riguarda la diminuzione sulle danze e per la tecnica stessa delle diminuzioni all'epoca non si può prescindere da Diego Ortizio. Vi ho riportato anche questa frase che vi leggo che le diminuzioni rappresentano delle improvvisazioni vagliate e fissate che seguono il criterio di aderenza stilistica più che quello dell'originalità. In questo senso appunto gli autori città di sopra diventano dei modelli da imitare e le diminuzioni che sono la parte originale poi anche di questo lavoro diciamo che vengono realizzate idealmente come se fossero di quegli autori quindi diciamo il criterio di aderenza stilistica è proprio in riferimento a quello che poteva essere una diminuzione su una danza più o meno alla metà del Cinquecento. E con questo io vi ringrazio e vi saluto con questi simpatici ozzetti marzicani. grazie a tutti. grazie a tutti.